Amici stracandidi, buongiorno, bentrovati, buon venerdì, buon venerdì, quindi si ricomincia. Prima di cominciare, prima di tuffarci in quelli che sono i temi di questo video, e vi ringrazio di essere qui con noi in questo nuovo video, con noi intendo con me e con il Lebron James, fresco campione, fresco campione dell'NBA, che mettiamo un po' più vicino all'archetto della Coppa Italia. Allora, vi ricordo di iscrivervi al canale, stracandido azzurro, mettete un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, attivate la campanella dopo che vi siete iscritti, in maniera tale che avete tutti gli aggiornamenti sui video che man mano vi andrò a proporre. Oh, c'ho una perla per domani mattina intorno alle 9, vi faccio svegliare con il pendolino di De Luca, il pendolino del presidente della campagna, della regione campagna, De Luca. Quindi, tutti pronti, domani mattina alle 8 in punto, il pendolino di De Luca. Detto questo, che è una cosa cogliardica che facciamo sul canale dello stracandido azzurro, vi ricordo anche la pagina ufficiale Instagram stracandido azzurro, allora, domani Napoli-Atalanta. Oggi, parole di Gasperini, che precedono la gara di domani, non parlerà Gattuso, a quanto pare, ma questa ormai è diventata una consuetudine scellerata, che io contesterò fino alla morte del Napoli-Calcio, probabilmente in questo periodo anche giustificata dal fatto delle troppe chiacchiere sui tre punti a tavolino, sulla sconfitta a Torino, il punto a tavolino, il punto in meno, il tavolino, ma rotti i coglioni, mi sto rincoglionendo pure io, è meno uno, è più tre, è più quattro, è più sei. Ma di questa cosa non ne parliamo più, bisogna ripartire. Ripartire vuol dire ricominciare dai cinque punti che attualmente il Napoli ha in classifica e quindi ci vedono già in rincorsa. Questa partita qui, e lo dissi già due settimane fa, a prescindere da quello che sarebbe stato l'esito del giudice sportivo, ha una valenza fondamentale. E, visto quello che è successo, ancora di più, oggi conta quella partita. Per tante ragioni. Per la classifica. Perché se tu domani non vinci con l'Atalanta o addirittura perdi, vai già alla bellezza di... ... ... ... ... Per i tuoi obiettivi, quindi per quei primi quattro posti. Poi vediamo, man mano, quello che succede nel campionato. Io sento troppe voci. Eh, ma ci hanno sottovalutato in chiave Scudetto. Il Napoli può essere una candidata Scudetto? Oh! L'anno scorso siamo arrivati settimi. Quando c'erano squadre, negli anni passati, che partivano da un settimo posto, nessuno si sognava di mettere tra le candidate Scudetto. Anche se si chiamavano Inter o Milan o Juve o chi per loro. Nessuno. Poi è successo che lo Scudetto lo hanno vinto. Per esempio la Juve di Conte al primo anno, che partiva da un settimo posto. Per l'amor del cielo. Sono cose che possono succedere, ma non sono scontate. Il Napoli si è migliorato, ha fatto un ottimo mercato, ha attualmente il buon Gattuso a disposizione una rosa di ottimo livello, ma da qui a vincere lo Scudetto ci passano 38 giornate. E in queste 38 giornate devi dimostrare di essere più forte, più continuo, più indiavolato degli altri. E a proposito di indiavolato, è qui che volevo arrivare. Perché domani io non mi aspetto qualcosa dal punto di vista del gioco. Anche se sono curioso di vedere l'asse, chiamiamola così, senza fare i facili ironie del cazzo, è l'asse africana. Perché si parte da Coulibaly, ci sarà in mezzo la forza di Bakayoko e la potenza, lo scatto, la velocità di Ozymen in attacco. Perché questa è l'asse centrale di questo Napoli. La formazione sembra già fatta. In porta andrà Ospina, probabilmente per ragioni anche di cuore, visto che Meret nel corso della settimana ha avuto un lutto in famiglia, è mancato il nonno, ti siamo vicini Alex, quindi probabilmente vista una settimana del tutto particolare, appesantita anche dall'isolamento, dalla situazione e quant'altro, si preferirà mettere Ospina. Per quanto riguarda la difesa, buone chance di rivedere finalmente in campo Mario Rui, se così non dovesse essere, se non dovesse convincere Gattuso nelle ultime ore nella rifinitura, conferma per Isai. In mezzo l'asse con Coulibaly, di fianco Manolas, a destra, confermatissimo Di Lorenzo. In mezzo, Bakayoko con di fianco, ci sono dei ballottaggi tra Demme, Fabian Ruiz o addirittura Lobotka, ma il favorito sembra essere Fabian Ruiz. C'è la conferma alle spalle Tiosy Man, che va a completare la spina dorsale del Napoli di Mertens, anche lui che sembra essere in forma smagliante, vista l'assenza di insigne, ci sarà Lozano che andrà verso la sinistra e probabilmente Politano sulla destra. Questo dovrebbe essere il Napoli che andrà a giocare contro l'Atalanta, ma dal punto di vista tattico c'è poco da vedere. Vogliamo magari capire come può funzionare il 4-2-3-1 con Bakayoko a fare la diga e mezzo al campo. Ma la cosa che ci interessa di più è capire come stanno i nostri giocatori di testa. Perché ci sono state le prese per il culo, lo Juventino che ti ha 3-0, 3-0, è giusto così, è giusto così, il regolamento dice così. Va bene, prendiamo tutto, ma nella testa di questi giocatori che cosa è passato? È passato che loro erano pronti a giocare perché adesso non cominciamo a dare le colpe ai giocatori. Se qualcuno ha sbagliato in società pagherà ma andiamo a vedere come andranno a finire le cause, il Tarque, dove si arriverà in tutta questa situazione. Ma nessuno ha pensato ai giocatori che erano pronti ad andarsi a giocare una partita e vogliosi di fare un'ottima figura a Torino. Gliel'hanno negata e per di più gli hanno tolto pure un punto con la sconfitta. Dieci giorni di isolamento, quindi senza poter vedere le famiglie, incazzati come le belve, comunque impauriti perché due dei loro sono comunque risultati positivi. E in questa situazione di caos generale un solo uomo, uno, può aver fatto un lavoro psicologico, speriamo, abbia fatto un lavoro psicologico importante sui suoi uomini, che è Gattuso. e io ci credo molto in Gattuso e credo nel suo lavoro soprattutto mentale perché è un uomo di campo, è un uomo di spogliatoio, è un uomo che ne ha passate di tutti i colori, ha vinto un mondiale con tanti altri compagni sotto il caos che succedeva in Italia con Calciopoli e quant'altro e si sono isolati da tutto e da tutto e ci hanno portato indietro la coppa del mondo. Quindi sa che cosa vuol dire vivere sotto pressione e io mi auguro che un po' di quella esperienza Gattuso l'abbia messa ai suoi ragazzi in queste settimane, in queste dieci giornate, in queste venti giornate, trasmettendogli serenità perché è quello che vogliamo vedere domani. Domani vogliamo vedere una squadra serena, incazzata e che metta in campo i coglioni, che dia un messaggio, che mandi un messaggio non solo a se stessa ma al mondo intero perché è la cosa che ci interessa di più domani. Domani giocare bene può anche non essere sufficiente, si può vincere, si può perdere, si può paneggiare ma bisogna dimostrare di aver tenuto mentalmente che è la cosa importante perché la gara di domani non è una semplice partita da quarta giornata. Domani comincia il campionato del Napoli e comincia contro un grande avversario forse il peggiore che ti poteva capitare adesso come adesso e devi dare una risposta, un segnale, una rivincita anche per quello che è successo l'anno scorso, ve lo ricorderete bene, no? Agli ultimi minuti l'Orente ha battuto in area di rigore, niente rigore, si va dall'altra parte e godo il pareggio 2-2. Quindi io mi aspetto un segnale, voglio un segnale, voglio una reazione perché in queste due settimane non abbiamo saputo niente della squadra se non qualche fotografia allegra dei momenti dell'allenamento a Castelvolturno. Io mi aspetto una reazione, voglio una reazione, voglio vedere una squadra forte, compatta, serena, ma gagliarda, incazzata e pronta a tutto per portare a casa tre punti che non sarebbero importanti, no, sarebbero fondamentali. Dallo Stracandido Azzurro è tutto, io non so se domani riuscirò a darvi una diretta per quello che riguarda la partita perché sono sui monti, se prende il collegamento molto volentieri altrimenti ci raggiungiamo nelle prossime giornate. iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, attivate la campanella, c'è anche Instagram Stracandido Azzurro, cari amici, alla prossima, anzi, oh, mi stavo dimenticando, a domani mattina con il pendolino di De Luca. Sarà un pendolino entusiasmante, sconvolgente, meraviglioso. Ovviamente gogliardico, che nessuno si senta offeso. Alla prossima, ragazzi! Alla prossima,